Una nuova missione nel Salento per il presidente Alessandro Bratti e la commissione bicamerale cosiddetta Ecomafie, ovvero la commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati. La tappa leccese è nel poligono militare di Torre Veneri. I sopralluoghi dei parlamentari, tra i membri della commissione anche il senatore Salentino Pietro Iurlaro, mirano a verificare lo stato dell'arte della bonifica dei siti di interesse nazionale e anche di quelli militari in attesa delle attività della neocommissione sull'uranio impoverito. A Taranto, oltre alle aree interne ed esterne all'Ilva, una tappa sarà statte nell'area ex Cemerad per la cui bonifica sono stati stanziati 9 milioni e mezzo di euro. Abbiamo deciso, prendo con un'audizione con il ministro della difesa, la senatrice Pinotti, di fare una verifica sullo stato dell'arte delle bonifiche anche dei poligoni e dei siti militari che ci sono nel paese. Quindi in questa missione dove abbiamo il focus sarà sulle bonifiche e i siti di interesse nazionale, quindi Brindisi, Taranto, fondamentalmente due siti che sono a Bari e l'ultimo a Manfredonia, però abbiamo deciso anche di cominciare a fare alcune verifiche sul posto di questi siti militari, per cui essendo in Puglia questo sito meritava sicuramente una visita. Questa è la motivazione fondamentale, non è che ci sono delle problematiche particolari, diciamo che c'è una problematica più in generale di cui tra l'altro, presumo, si occuperà anche la neocommissione sull'uranio impoverito che è stata costituita recentemente. Però in questa fase di lacuna, perché la commissione non era ancora istituita, parlo di quella dell'uranio impoverito, noi abbiamo iniziato e iniziamo a fare questo tipo di lavoro. A Brindisi fare i puntati sulla discarica a Micorosa. Ho un particolare interesse sulla situazione del sito di interesse nazionale di Brindisi, dove c'è la questione della discarica di Micorosa che ci dà qualche preoccupazione. Lì c'è un intervento di bonifica previsto, sul quale peraltro ci eravamo impegnati già all'inizio della legislatura con l'approvazione di un emendamento che ha consentito di reperire delle risorse importanti proprio per la bonifica. Una bonifica che dovrebbe iniziare e che in verità mi ha lasciato perplesso proprio per la modalità della gara, l'assegnazione, un'assegnazione che è stata fatta con un ribasso del 70%. Quindi vediamo, sicuramente dalle audizioni vedremo di capirne un po' di più.